e ciò a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo episodio di rocket league oggi continuiamo la nostra serie siamo qui con Ale Bella e Checco ciao bene siamo primi in classifica con i mammut incominciamo la prima partita contro i dragoni cuoioni ecco lo sapevo mettiamo una canzone dai vai vai non sono in forum oggi non sono in forum oggi non sono di forte non è tutto che c'entra mi ha trollato troppo pure a me guarda io ho saltato come un porco la guarda io stavo aspettando la palla e vabbè vabbè dai tranquilli che ci operiamo la prima del giorno rara ci facciamo ci facciamo no troppo bello fare alcuni trick casissimo col turbo c'è mi ha il vostro 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 mi ne entra in porta aiuto che bello rara io sono andato in porta perché non volevo parare che potrò tirare il luca mi spinge malissimo io ero entrato in porta vai Luca no ho togliato un porto bravissimo bellissimo bellissimo per me no e questo no no smetti di spingere aia perchè a me spingono e poi spingono no l'ho stoppato in una maniera bellissima no cazzo io ci stavo cercando di arrivare mi hai fatto 8 gol guarda 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 che c'ero oh oh no no perchè non volevo no no però l'hai fatto bella vai no che brutto cazzo oh 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 no tutti no oh 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 guarda una frana guarda che voleva faranno la parà molto bello poi all'angolo infamissimo lega ma il tuo manco cosa che ho fatto fra non lo so tipo uno stop e cross ci arriva io ti ho chiesto ma la pisa blu l'ho presa senza guardare io non lascia la cosa era l'altro blu che si altissima l'avete fatto l'alte fatto all'anno aia 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 mi hanno spinto il 3 mila uuuu vedi spingere tutti grazie vado io prego dai 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 blu cross a lui trampa no mia mia no sto blu di schifo uuuu abbassa il muro no non me lo c'è in lato oh mia mia anzi mia se ci arrivo si no no si si no lo calore sta andando o porcelino vabbè mi metto più in qua possibile e vedi tutto cattolato cosa è successo con il giro no vai 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 no perchè mi sono stata va bene occhio occhio grandissimi manci vabbè volevi prendermelo il turbo non manco sapevo che c'era stavo andando a prendere la di tassettare la palla occhio una seconda cosa ci ha salvato bravo blu che liscia bello bello raga bello 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 ho fatto poco vabbè mi spavolo con il raga mi piace riuscire caccia 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 arrivo con certo di turco e tutto caccia 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 non mi forse quando di schilarla ea conto mai credo dottorzato turbo oh no cosa stavo facendo no però mi ha deviato come lo schifo sono io indipendente in conto dove ha fisito capito ma che palle ea no fermo vada non tocca ve lo prometto porca caccia no vabbè no vabbè scusate stavo morendo ancora una ritorno scoprite le 9 sono pochi di 19 sono le tre ma a quattro ora andiamo a scuola ma a quattro ora andiamo a scuola ma mamma te la guardate le copertificazioni si si dicevano ragione 3 si 2 e 3 2 no il mio dovevo po non la borsa forse tutto del ritrovato non è tutto se ho visto anche nel tuo e ogni tono nel tuo il tuo cassetto fatto il liceo mamma della mamma mia no no lo prenderò in giro lo sto parlando tutto guardate no mia o perché dice a tutti e quello che mi dai no 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 niente non ci arriva mai che piccola mai a volte il x non va tanto che fa sì è vero comunque anche a me l'altra volta no voglio prenderla mente tu me la prendevi che culetto no un'altra volta fai ok è un tiro io sono in porta su finito ce l'aveva protesta ma sono questo era un tiro sì ma l'aveva preparato è troppo lento è anche arrivando a cello preparato di brutto no esatto lui lo avrebbe preparato non vai luca ti hai distrutto tutti non ho capito che io te lo ho buttato sotto la parola la parola la parola la parola ho capito ma stai sbagliando che stavo già volando per puntare guarda stavo già volando nel tempo era la cacciata più inizi stai facendo un film assurdo ma l'ho fatta più c'è non volevo l'hai fatta poi no sbagliandosi poi volevo non volevo farlo l'indietro però cosa sbagliato apposta volevo spostarla no 1 guarda 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 le mie esultanze eeeh ho saltato tu hai saltato poi dopo no sei riuscito a registrare mi ha il tutto bravo no 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 ti ho fatto demolire luca io acento con i turbetti per me eccomi no agia è fico farsi il turbo con i turbetti aia l'ho demolito senza turbo che culetto ho un po' un po' non to a ma non mi fai il doppio salto ma ti stai riuscendo ma non mi fai il doppio salto Luca giochi serio e mi fai di cantare mi fai il doppio salto oddio 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 no se la lisciava raga era epico si quando ci arrivo mo doppio salto non coprite che arrivo io no che schifo no mi hanno spinto faccio io ho capito ho messo fatto due manca l'ultimo no la paro mia no vabbè salto vabbè la parata l'ultimo volo che è bastardo ciao non cadermi bravo ti sono andato sul stampa hai sì stop mai ancora due giusto se questa planta ancora prima mutano perso no ancora mamma c'è per i merito so forti no i quartieri e basta no e noi e no e ci fiori 4 sposa più forte 4 sposa più forte bravo oh cosa è successo che passaggio della vita no non ha l'indietro era per l'anno indietro non vi avevo visto non vi avevo visto perché c'era la palla davanti no io no io no mio mio ti ho spinto come un porto vabbè ce l'ha arrivata lo stesso guarda io ho tirato addosso e mi ha fatto il cross lui ma perché non la para è dritta basta che sta fermo lo so è stato fermo doveva solo alzarsi non è andato che gira che gira che gira no 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 madonna oh cosa ho fatto no era bellissimo no mi ha fatto tutto il turbo sto bambolo bambolo sto bambolo no vabbè che porco p mi ha fatto tutto il turbo oh mi ha fatto tutto il salto oh no poi fa bene no 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 c'ero io no no c'ero io luca di nuovo io no no vai dai ora 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 eh non avevo tutto con calma compagno con calma compagno con calma vado a prendermi il turbo si si con calma e dai ma non ce ne sono tutto calma ho fatto con calma si ma raga non c'è un turbo da 100 mi l'ho trovato mi ha ancora di due e io quando sono partito quando sono andato non c'erano eccolo nooo me lo ciullano raga raga non sono già su io no luca arrivo arrivo sì mio è mio mia 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 che è ancora un po' ma non è che mi ha dato un po' mi ha dato un po' non è che mi ha dato un po' seconda si è guardata un'importante no il titolo che c'è turbo abusivo c'è luca abusivo che cerca il turbo che c'è l'arrivo se l'arrivo non si muove se l'arrivo il bimbo la dc infini vini 15.000 grazie che prego no ci sono io no dammi il tuffo d'accento levati sono infame ora lo faccio io guarda il caldo guarda guarda non meno stirare volevo parare guarderei io di quanto questa palla non so come la prossima scende piano poi l'improvviso guarda è troppo tardi ma che sta al centro il senso dovevi andare c'è mai esce ma che cross le volte non ci credo che si integra a tutti e tre ho fatto il pro godo no tu lo carico sari ci stanno andando come serve ragazzi stanno andando stiamo distruggendo come? ah no vabbè noi siamo i rossi me l'ha ricordato si stanno distruggendo proprio tanto chi ha? oh l'ho preso aia vai no aia no 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 grande no fra perché perché cacchio la presa perché dove era allontano ma cosa non è vero ma all'indietro però deve essere il nostro campo vero ecco qua si vede no aia ho beccato un buon pieno che non mi ha fatto tornare no non ci credo io stavo tornando guarda che bastardo torno stavo curvando bam qua autogol no mi ha fatto un buzzo un buzzo un buzzo un buzzo un buzzo eh mi ha detto Ale cosa vuoi? ripeto l'altra voce naturalmente ha fatto gol è distante un gol no dammi il turbo c'è un pisto eh ho detto autogol perché l'auto ha fatto gol ma ci facciamo mia levati rossa crosto io all'indietro uno che crosta è crosto io no 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 crosta luca fai crostare a loro no 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 ecco aspettare no no ci siamo per niente ma cosa ho fatto no raga 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 che culo togliti ma cosa togliti togliti tu dai maroni fatti autogol eh fatti autogol è ovvio io se vuoi me lo faccio no sono bravo è lì dietro si no no non è male cosa sta facendo allora mi faccio l'autogol a finale si ovvio non ce la faccio se non è male corri no 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 vai l'ultima raga l'ultima c'è l'ultima c'è la città lo vediamo i città ma molto sì una cosa buona noi 12 vittorie ora siamo contro i cercatori non si fanno queste battute siamo fatte 12 vittorie 13 vai tu vai ok ma che cazzo aia goal ma è stato sfigato e poi si prende traversa no guardate guardate nella pantella guardate nella pantella guardate nella pantella non entrava vedi traversa la portiera ho beccato sennò il travettore così si fa fai vedere a questo pirla come si gioca tutti sono pirla ma non c'era il primo ma io perchè non ho fatto niente mi ha fatto niente vuol dire come si gioca ea che buon non me lo giocare godo fisello dark godo prego ti ha spinto guarda qui con Luca guarda guarda ti ha spinto ma non è vero ti è risciata come un porco ti ha spinto a pirla grande checco per favore cosa c'ha fatto il gollo nooo è mio il gollo ti ha detto nooo era mio no era mio giaco giaco si era gollo giaco si era gollo ed era mio no era mio il gollo perchè non ti ha dato l'assi se non ti avrebbe dato l'assi raga siamo per fare un 10 a 0 dai che lo possiamo farlo era mio quel tiro nooo siamo per un bel 10 a 0 raga veloci bravo luca ma perchè non mi ha fatto il tuo alto dammi il turbo e dai lo spinto me l'ho preso grazie io ho capito mi togliere eh vabbè si ho fatto arrivare la palla zitto si si guarda che tiro c'è io ho più cosa di così non so che cosa vuoi ma il mezzo è passata lo beccato uno dei gialli no il mezzo deve passare la palla io sono in palla io sono in palla io sono in palla io sono in palla io ho capito che faccio io ah bravo io devo stare in palla io devo stare in palla ok 4 a 0 chi è l'ultimo vabbè ti la tengo la luca no no stia toglie su un po' la luca è vero che si era mio si era mio io vado io vado io vado dove vado ah non lo so ah fam ah io che sei gol non toccato eh proprio ho capito si che gol che culo nooo culo di merda che ultimo chi è primo me 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 stiate gol a luca era di luca guarda era mio guarda che era di luca guarda guarda che era di luca che stilone vado io no vado io no vado io no tu prendi sempre vado io ecco vabbè un parterio un'altra poco no vado perca ma io vali porta si fai fratina no no vabbè ma la parla solo questo boso no 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 voglio facciare 10 te schifosi vado che sfida no facciò la break dance l'arzo m Kumagir e bella che se gott non la bella ma come hai fatto ma era troppo alta apposta dovevi saltare tu punto è troppo vai luca tocca a te facci vedere il tuo potenziale guarda guarda ma che cosa ha questo arrivo non è iniziato passando su una turba aspetta non mi sa che la parola per fare la propiedenza devo fare ma mancuno 2 ecco ma non credo prima ho due assist due gol e tre tiri guarda sto ball con calma dai raga sei a zero in due minuti ciao luca che cosa perché devo fare la breakdance l'ho capito a pensiamo dove vittre stavano dovuta no perché io lo so è calma in realtà luca sta in porto anche para non so no luca luca l'hai sbagliato mai prendo me la devi lasciare ero già andato a vero fa il doppio salto che parla a volte non me lo so luca luca la parà no volevo fare la previdenza per pararla guarda ma cosa non vuole siamo fermi dai sei un pirla che cazzo potevi pararla è il pirla della giornata potevi pararla tantissimo poi schifo è il pirla della giornata il premio per il video pirla della giornata va luca nooo sei contento luca per questo premio ok ora rifaccio la breakdance ma devi però se ti arriva la palla devi parare no però con la breakdance no no è normale che te la parava era velocissimo luca ma era la palla luca luca dai luca però no esci 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 2 caso non me ne frega un caso dai la puoi parare che cazzo stai cazzo stai 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 ha provato ma non è venuto fatto ma per maria scopo balli non ci credo ma sempre parlo no amico mi hanno spinto con il corpo pianissimo la palla perchè mi hanno spinto ha scritto però anche provata sono sceso io l'ho scritto a te mi è sceso si mi è sceso il cuore no mi sono sceso vai luca sono sceso accendere al tuo proaggine vabbè farò un altro fuoco no dai bastardo io parlo a loro faccio il loro bambino faccio la breakdance alla loro porta così ho più possibilità di parare almeno così almeno se non parlo non fa niente mamma mamma eccolo è diretto per me arrivo a salvarvi la vita cercatori no no mi serve il turbo tranquilli io gli parlo ok va bene va bene tempo di girarmi saltare provare a volare eh non ce l'ho fatta dovevi fare così io l'ho fatto che non era non cittadino allo 12 di turbo ok vado nella loro porta ora foto motuale tu fatti di caverza notte capare e saliamo e quello di me ma lo prendo da un po' che prima beccato il titolo detto non si dice non lo faccio ma io non mi pare ma dopo come non mi sa mai ceriamo di farla se tu crossi magari sia crossa non ce la fai a crossare non li sto passando ma dove crossi stai zitto guarda in questi terra no l'ultimo l'ultimo meglio no pure te ti ero pappato stai zitto ma sono l'ultimo guarda tocca a me tu non fai zitto stai a sto crossando io porca cazzo non è che devo fare solo tu stronzo per la pirla è il secondo pina della giornata e france il pirla supremo io non esiste pesato capace di farti fare gol ma che cazzo me ne frega quello era un mio grosso e tu non i minimi 4199 non toccare palla e 399 punti e moto a palla non deve toccare l'ulta palla il mio obiettivo questo era lui va beh ragazzi noi ci salutiamo davvero è tutto saluto luca per me ciao bella